Chi è e cosa fa un forex trader? Qui Ardino Schenato da Airforex.com, sono nel mio ufficio e oggi voglio vedere con voi la figura del forex trader. Chi è questo forex trader? Il forex trader, come dice la parola stessa, è il commerciante di valute, ovvero colui che scambia valute per ottenere un profitto, un po' come il trader di borsa che va a scambiare titoli azionari per ottenere un profitto. Scambia quindi un controvalore in dollari, per esempio 10.000 dollari in euro, e cerca al cambio di quel momento della coppia, in quel caso euro-dollaro, appunto di ricavarne un profitto. Non è né un mago, né uno scommettitore, né un giocatore d'azzardo. Il forex trader è una figura professionale, molto poco conosciuta ancora nel nostro paese, ma assolutamente una figura professionale. Quindi in quanto tale non è un gioco, non è un giocare al mercato delle valute, come si dice giocare in borsa, ma è proprio un'attività che necessita alcune cose che adesso vediamo. Scordatevi ovviamente che il trader sulle valute è colui che si mette sotto l'ombrellone in spiaggia a sorseggiare un succo caraibico e il sistema automatico gli crea profitti, piuttosto che il trader che sta 14 ore davanti al monitor tutto il giorno. Per carità ci sono anche quegli esempi, ma scordiamoceli al momento e pensiamo al forex trader come a un classico imprenditore che commercia valute. Quindi chi scambia valute lo fa attraverso dei metodi, attraverso degli studi, delle analisi, non lo fa ovviamente buttandosi a comprare euro, dollaro o quella valuta che vuole, così, ma sempre attraverso appunto un certo tipo di studio. Quindi diventare un forex trader è possibile, ma necessita ovviamente di un percorso, un percorso di studi, un percorso dove si cerca veramente di capire quali sono le dinamiche che muovono questo mercato, perché le dinamiche appunto di prezzo che contraddistinguono il mercato del forex sono diverse da quello del mercato azionario. Il mercato del forex rispetto appunto al mercato azionario è un mercato che viene coinvolto dai fondamentali in maniera non proprio uguale a quello azionario. Le azioni hanno molte più notizie, molte più situazioni che possono andare a interferire anche rapidamente in maniera molto volatile l'andamento appunto di quel titolo, mentre il mercato delle valute da questo punto di vista è più lineare, è più stabile e in realtà ha solo due grandi voci fondamentali che lo vanno ad assorbire ed è il tema dei tassi di interesse e delle inflazioni in realtà. Poi ci sono ovviamente tantissimi altri market mover ma sono minori, quindi diciamo che il mercato delle valute è un mercato più stabile e quindi il forex trader, quindi colui che lavora in questo mercato deve avere comunque, deve avere degli studi una visione di meno temi a livello fondamentale, deve essere molto più come dire analista diciamo o comunque molto più approfondito negli studi di quello che sono proprio le dinamiche di price action, quindi le dinamiche dei prezzi. Essendo infatti un mercato molto liquido, il mercato più liquido al mondo ovviamente il forex trading ha dalla sua che l'analisi dei prezzi e quindi l'analisi grafica conta molto. Per diventare forex trader non occorre una laurea in economia o in finanza come non occorre una partita IVA. Io faccio il forex trader e quello che posso dirvi lo faccio da tantissimi anni, basta solo che vediate da quando esiste questo canale, ormai più di dieci anni e devo dire che la cosa principale è quella di non dirsi delle bugie e di non credere alle favole, quindi cercare di capire che questa è un'attività professionale come altre e come tutte le attività professionali necessita in realtà proprio di un periodo, un periodo che spesso non dura qualche mese ma qualche anno prima di iniziare a vedere dei risultati veri, iniziare a vedere, come dire, ad essere sicuri, quindi a trovare quella sensibilità che nel tempo in effetti ci permette di farla magari diventare anche un'attività, questa qui del trading sul forex. Scordiamoci il fatto di apro un conto e divento già un forex trader mettendo lì qualche migliaia di euro ma anche fossero più soldi, se non avete le competenze e l'esperienza adeguata è difficile che lo diventiate, quindi la cosa importante è che questo tipo di lavoro del trading sul forex lo pensiate proprio come qualsiasi altro professionismo, dall'avvocato al dentista al medico chirurgo, qualsiasi tipologia di attività professionale dove necessita proprio, si necessita proprio degli studi e dell'esperienza. Con queste cose qui nel tempo, negli anni qualcuno ce la fa e qualcuno può diventare veramente capace e farlo diventare la sua professione. Noi in Earforex ovviamente, lo dice la parola stessa, siamo diciamo degli specialisti sul mercato delle valute, io sono da tantissimi anni un forex trader e il mercato per il 90% nel quale praticamente lavoro di più è il mercato del forex, quindi ve lo dico anche per questo, state lontano dai guadagni facili in questo mondo, perché i guadagni facili in questo mondo non ci sono, ci sono le possibilità di farlo diventare assolutamente un'ottima attività, ma non dal giorno alla notte. Come sapete infatti anche le percentuali di fallimento, diciamo così, di chi fa trading, ma in generale non solo sul forex, è una percentuale molto alta, quindi anche questo vi deve far capire che ci vuole tempo, ci vuole studio, ci vuole esperienza, ma si può fare. E come dicevo poc'anzi il mercato delle valute ha una grande peculiarità che appunto è la stabilità dei prezzi, è molto pesante, la volatilità non è come quella del mercato azionario, questo a mio avviso è una delle cose più belle perché permette al trader sul forex di ragionare in maniera più oculata, magari a volte di lasciare anche la posizione aperta qualche ora in più oppure anche qualche giornata in più per valutare meglio la situazione, perché difficilmente il mercato del forex ha delle fiammate di volatilità come invece può accadere nel mercato azionario che può fare anche dei gap per esempio quando la borsa di riferimento apre e questi gap possono anche essere di svariati punti percentuali. Nel mercato del forex questo non c'è, quindi più linearità e anche meno volatilità estrema diciamo, quindi questa cosa insomma per chi fa forex trading è sicuramente un'ottima cosa. Quindi riassumendo chi è il forex trader è colui che scambia valute per ottenere un profitto, cosa fa? Con dei metodi studiati e soprattutto con una certa esperienza e una certa sensibilità di quel mercato si propone ogni giorno, ogni settimana, ogni mese attraverso poi degli approcci ognuno differenti nel cercare appunto di fare profitti delle plusvalenze su questo mercato delle valute. E come qualsiasi tipo di trading, quindi dall'azionario a chi fa commodities, a chi fa forex, questo mestiere appunto non necessita di partita IVA e basta solo ovviamente una volta che si ha tutte le competenze necessarie avere un computer, una connessione a internet e una piattaforma di trading di un broker serio. Ecco con questi concetti diciamo chiudo un po' questa pillola di trading per farvi capire che il lavoro del forex è sicuramente un ottimo lavoro, purtroppo in internet c'è veramente tanta spazzatura oramai, chi si improvvisa formatore sul forex non è neanche 2-3 anni che fa trading, chi propone cose e quindi lasciate stare, chi fa dei marketing troppo troppo spinti e quindi cercate insomma da questo video ecco volevo proporvi il modo più giusto per entrare in questo mondo. Lontani dalle favole ma se avete voglia di rimboccarvi le maniche, di studiare, di mettervi seriamente a fare questo lavoro probabilmente ce la farete. Anche questa pillola di trading oggi l'abbiamo fatta, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like al video e se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, a presto!